Il caso di Saman Abbas, la ragazza pakistana scomparsa da Novellara nella notte del 30 aprile scorso e di cui non si trova ancora il corpo, è solo l'ultimo caso, probabile vittima della tragica tradizione del matrimonio forzato, uccisa per essersi opposta alle decisioni della famiglia. Ma quante altre Saman ci sono in Italia? Per la prima volta il Ministero dell'Interno presenta un rapporto su questo fenomeno, dal quale si scopre che nel nostro paese, in poco meno di due anni, si contano 24 nozze forzate, nove solo negli ultimi cinque mesi. Le vittime di questa pratica sono per quasi il 60% straniere, ma non sono poche le italiane che subiscono la stessa sorte, il 41%. Il dato è allarmante perché è solo la punta dell'iceberg, ma noi abbiamo un 36% di vittime che sono minorenne e abbiamo quasi un 10% di spose bambine che hanno meno di 14 anni. Spose bambine costrette anche ad abbandonare la scuola e a vivere spesso isolate, segregate, vittime di violenza, come la storia di Saman ci ha dimostrato.